E allora questa mattina ho fatto le cosiddette tre cime dei briganti, così ho chiamato tre salite importanti che ci sono qui, il Tempio di Giove, la Ciana e Campo Soriano, arrivando fino a sopra a Colle Chiavona. Beh diciamo che quello del famoso, la famosa cattedrale che è una roccia carsica di origine pre-storica. Qui c'è pace, c'è pace, c'è serenità, non prende la linea per cui non ho potuto fare la diretta. Insomma è una giornata fresca, anche perché io la mattina esco molto presto alle sei e mezza e quindi me la godo tutta. Comunque ho incontrato molti, molti sportivi per l'occasione, come chiamo io, che facevano finta di fare joking pur di uscire la gente ormai fa attività sportiva. E questo è uno degli aspetti positivi del coronavirus. Ironizziamoci sopra, ma la situazione è veramente drammatica. Prodi ciclistici.